Definire il prezzo. Stabilisci un prezzo per il tuo prodotto digitale che sia competitivo e rifletta il valore che apporta ai tuoi clienti. Considera i prezzi dei prodotti simili sul mercato e tieni conto delle tue spese e del margine di profitto desiderato. 4. Scegliere una piattaforma. Seleziona una piattaforma di vendita che si adatti alle tue esigenze, come un sito web personale, un negozio online, una piattaforma di e-commerce come Shopify, o un marketplace specializzato come Amazon Kindle Direct Publishing, Udemy o Envato Market. 5. Promuovere il prodotto. Utilizza diverse strategie di marketing per promuovere il tuo prodotto digitale e raggiungere il tuo pubblico di riferimento. Queste potrebbero includere l'ottimizzazione dei motori di ricerca SEO, la pubblicità online, i social media, il content marketing, il marketing via email e il networking con influencer e leader del settore.